intanto saluto tutti i partecipanti sono contento che abbiano scelto paolo a questo luogo caro a tutti i calabresi per questa manifestazione saluto il presidente della prologo paolana il presidente provinciale il presidente regionale ovviamente saluto tutti gli operatori turistici tutti coloro i quali sono interessati a far sì che questa sia l'estate della svolta lo speriamo tutti e sono sicuro anche per i segnali che stanno arrivando per le risposte che si stanno dando per gli interventi amministrativi che si stanno compiendo che la calabria si troverà pronta darà le risposte giuste per fare in modo che i calabresi e i tanti che ormai da tempo scelgono la calabria possano ritornare nella maniera più tranquilla questo è il nostro agudio questo è il nostro sforzo questa sarà l'estate del rilancio e della ripartenza grazie a tutti